Si è tenuta in prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica pianificata dopo gli episodi di Gela nel pomeriggio di sabato. All'appuntamento, presieduto dal prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, hanno partecipato il procuratore della Repubblica di Gela, Fernando Asaro, il procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia, Santi Roberto Condorelli, i vertici delle Forze dell'Ordine, il capocentro della Direzione Investigativa Antimafia e il sindaco di Gela. Nel corso della riunione, dopo aver dato atto che sono in itinere attenti approfondimenti investigativi volti a individuare gli autori dei recenti eventi delittuosi, si legge in una nota, si è proceduto ad un'analisi congiunta e dettagliata delle misure di prevenzione a carattere generale e dell'attività di controllo sul territorio operata dalle Forze dell'Ordine, in esito alla quale il prefetto ha disposto un ulteriore potenziamento dei dispositivi in atto con l'intensificazione di servizi ad alto impatto. Inoltre, il prefetto di Caltanissetta ha richiamato l'attenzione del primo cittadino gelese sulla necessità di completare rapidamente l'installazione del sistema di videosorveglianza quale indispensabile strumento di osservazione per accrescere il livello di sicurezza sul territorio. Infine, allo scopo di rafforzare le azioni di carattere preventivo sullo stesso territorio gelese, il prefetto ha invitato il sindaco ad avviare ogni utile iniziativa progettuale volta alla diffusione della legalità, sensibilizzando la cittadinanza a collaborare con le forze dell'Ordine e a segnalare situazioni sospette o l'eventuale commissione di fatti delittuosi, così da favorire la tempestività degli interventi.